E adesso vi insegniamo come realizzare dei tramezzini con uova sode e maionese. Prima di tutto prendete le uova sode, sgusciatele e lavate i pomodori. Una volta lavati asciugateli e fateli a piccole fette. Più piccole queste fette sono e meglio è, a questo punto pulite i cipollotti e affettateli. Tramezzini con uova sode e qui tramezzini con uova soda e aggiunta di zucca e versa. Prendete una piccola ciotola e mescolate la maionese insieme insieme ad un pizzico di sale e un po' di tabasco a seconda dei gusti. A questo punto prendete e spalmate le fette con la maionese e aggiungete cipollotti, acciughe e pomodori e uova. A questo punto avete concluso e non vi rimane che chiudere le fette di pane avendo premura di lasciare la parte spalmata verso il ripieno. Premere con un mattarello i tramezzini senza esagerare nella pressione e dopo ritagliate i tramezzini a vostro piacimento e servitene. Ingredienti per i tramezzini con uova sode e maionese. 4 fette di pane maionese quanto basta diciamo 4 cucchiai grandi 1 per ogni fetta di pane 2 cipollotti 3 pomodori piccoli meglio se sodi. 2 uova sode 8 filetti di acciuga sott'olio tabasco se preferite sale e qualcuno non disdegna i pepe ci vogliono 20 minuti di preparazione e 10 di cottura. Vino falermo del massico bianco o un pignot grigio da preferire. Grazie. 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 Grazie.